Sapere insegnare è un sapere teorico e pratico ad un tempo, non è sufficiente perciò leggere libri, studiare, ma è necessario fare esperienze. E' quello che hanno fatto gli edecuatori del passato con i quali ci confronteremo in questo corso. Leggeremo alcuni dei loro testi, quelli di Descrolli, Frenet, Montessori, Conjanc e da questa lettura cercheremo di trarre insegnamenti ed esperienze per la nostra pedagogia di oggi.